Musica Maicanò va via subito, non serve bene, sta allungando, con grande decisione tra l'altro, si porta anche a guardare, allucinando la curva rosa, la posizione dei due titoli e dei piccoli minori, e non mai canone, al comando. Siamo già alla terza del primo giro, non mai canone, è già un'attività del primo giro. C'è stato Grazie. 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 Grazie.